Allora, il signor Dulen vi sorveglierà durante il periodo di punizione. E voi farete tutto quello che dirà il signor Dulen. Si può sapere che cosa insegni? Io insegno ballo da sala. Ah! Te lo puoi scordare, bello! Non te l'hanno detto che eravamo la feccia della scuola? Da una storia vera. Hai capito come si dà da fare il signor Dulen? Balla questo! Lui pensava che insegnando potesse cambiare le cose. In posizione, prego! Veloce, veloce! Chiaro! Oh, ready! Loro che fosse facile farlo rinunciare. Spero che tu sappia quello che fai, Pierre. Sono i ragazzi più bisognosi d'aiuto e lei mi insegna a ballare i cha-cha-cha. Lei cosa fa per aiutarli, signor Temple? Non ci serve la tua compassione, capito? Nessuno si aspetta niente da voi! Io ho insegnato qualcosa che vale. Non dalle mie parti. Vuoi avere quello che vuoi? No, solo alcuni possono. Quelli che lottano per ottenerlo. Ma quando la sua bravura incontra la loro passione, nasce un nuovo stile. Oh! Come si chiama questo passo, l'ultimo che hai fatto? Non ha nome. Tu guardi la storia mentre si fa. La tua musica con la mia musica. Adesso senti questo. Ogni sogno comincia dal primo passo. Antonio Banderas. Sentite il tempo! Sì! Ti va di ballare? Con quella mosso da quattro soldi resti a bocca asciutta da queste parti. Credimi, io lo so. Io non resto mai a bocca asciutta. denen ha un po' alcalde. Grazie.